La mostra La solitudine dell'ala destra, Pierpaolo Pasolini e il calcio, in 120 fotografie, filmati, scritti, memorabilia, tutti materiali in larga parte inediti, ripercorre la passione sportiva di Pasolini, dai campetti di Casarsa alle Borgate Romane, al tifo per il Bologna. Allestita in galleria Eribertoia, in corso Vittorio Emanuele II a Pordenone, sarà aperta fino al 19 giugno con ingresso libero. Il curatore Piero Colussi illustra il percorso espositivo e alcuni episodi della vita sportiva di Pasolini. È la prima volta che si racconta la grande passione di Pasolini per il calcio, per il football. Una passione nata a Bologna, dove lui è nato, quando era al liceo, alla fine degli anni 30, ma il colore rosso-blu lo ha, come dire, accompagnato per tutta la vita. In questa mostra, composta da 130 fotografie, ma anche di tanti filmati, cinegiornali luce degli anni 60, in cui lo vediamo giocare assieme a Gianni Morandi, a Little Tony, ai grandi cantanti di quegli anni. È una mostra che è un viaggio attraverso i campi di calcio di tutta Italia. Lui è stato anche uno dei fondatori della nazionale dello spettacolo a metà degli anni 60, assieme a Ninetto Davoli, a Franco Citti e ad altri appassionati, sempre per partite a scopo benefico. Ne racconto una, che è quella forse più famosa. Nella primavera del 75, lui sta girando Salò, nei dintorni di Mantua. Non lontano da lì, l'amico Bernardo Bertolucci sta girando 900. Decidono una partita nel giorno del compleanno di Bertolucci. Bertolucci stravince per 5 a 2. Si scoprirà solo recentemente, tanti anni dopo, che era stato assunto nella squadra di 900 anche un giovane ragazzo della primavera del Parma, che si chiama Carlo Ancellotti. Beh, insomma, lui ha fatto anche un gol ed era molto orgoglioso di questo. Nelle parole dell'assessore alla cultura Alberto Parigi, le motivazioni del sostegno all'importante iniziativa non solo sportiva, ma anche culturale ed umana, arricchita con l'organizzazione di altri eventi, per ricordare uno dei più grandi artisti intellettuali del secolo scorso. Abbiamo accolto con estremo entusiasmo immediatamente la proposta di Cinema Zero e di questa mostra, che appunto il Comune fa assieme a Cinema Zero. Perché? Perché la chiave del calcio è una chiave assolutamente originale per celebrare il centenario di Pasolini ed è un valore aggiunto. È un valore aggiunto anche perché attraverso appunto questa leva popolare della passione del calcio che coinvolge milioni di persone, avviciniamo anche appunto le persone alla scoperta o alla riscoperta di Pasolini. Io credo che chi viene a vedere questa mostra sia anche in qualche modo invitato ad aprire o riaprire un libro che riguarda Pasolini. Il Comune però non fa solo questa mostra, organizza alcuni incontri collaterali che seguono due fili conduttori, quelli appunto del centenario di Pasolini e quelli della passione del calcio, del legame tra calcio e poesia. Due incontri molto importanti, tutte le informazioni sono sul sito del Comune. Uno dei due riguarda un'anteprima assoluta a livello nazionale, un libro inedito del grande scrittore Carlo Sgorlon proprio su Pasolini. L'iniziativa è promossa da Cinema Zero e Comune di Pordenone, con il sostegno della Regione Friuli Venezia Giulia e il patrocinio del Centro Studi Pierpaolo Pasolini di Casarsa della Delizia.